Il 1918 segna la fine della prima guerra mondiale, esattamente cento anni fa, ma questo momento che segna davvero un passaggio epocale nella vicenda dell'Europa e del mondo, come è nato, come si è sviluppato, come si è concluso? La guerra, come tutte le grandi guerre, ha delle origini remote e delle origini contingenti. Le origini remote sono la grande competizione imperialistica fra le nazioni e poi la lunga crisi dei Balcani e dell'impero ottomano, che genera una serie di conflitti già fra il 1911 e il 1913, che saranno i prodromi del scatenamento della guerra nel giugno del 1914. Ma poi ci sono degli effetti collaterali generati dalla contingenza, il fatto cioè che la diplomazia sia ancora una diplomazia segreta, che le corti non si parlino, che a un certo punto i generali abbiano la prevalenza sugli uomini di governo. Tutto ciò porta nel volgere di poche settimane e pochi mesi a una guerra che nessuno sa esattamente perché abbia quelle dimensioni. Sappiamo che tutti l'hanno raccontata come una guerra difensiva, una guerra contro gli altri per difendersi dagli altri. In realtà è stata una guerra prevalentemente offensiva, dove tutti gli eserciti hanno combattuto al di fuori dei loro confini. E quindi possiamo dire che all'origine c'è una grande ipocrisia, che poi pian piano diventa un'ideologia nel corso del conflitto, quando a partire dal 1917, con l'uscita della Russia a causa della rivoluzione, l'arrivo degli americani, la guerra mondiale diventerà la guerra delle liberal democrazie moderne contro gli imperi centrali autoritari e tirannici. Quindi vedete come tutte le lunghe guerre comincino in un modo e finiscano in un altro. Un altro aspetto che non bisogna dimenticare è il fatto che questa è la prima vera guerra tecnologica, nella quale possono giocare la partita solo gli stati che sono dotati di una industria moderna e di una capacità di produrre mezzi di distruzione di massa in quantità notevole e con una continua capacità di innovazione. Le mitragliatrici saranno l'esempio più classico di questo nuovo modo di fare la guerra. La guerra è concepita da generali che pensavano di andare all'attacco e viene invece gestita da uomini che vogliono stare in difesa e che hanno un mezzo di difesa assai più efficace di quello che hanno gli uomini che vanno all'attacco e questo cambia completamente il modo di combattere. Gli uomini non sono più selezionati sulla base del coraggio ma sulla capacità di resistenza e sulla capacità di sopravvivenza, ragion per cui i fanti contadini se la caveranno molto meglio che i giovanotti che vengono dall'università che sono stati mossi dall'interventismo a combattere nella guerra. Per l'Italia la prima guerra mondiale segna il tentativo di chiudere la partita con l'Austria apertasi nel 1848, così la vedono gli interventisti. Una guerra che deve restituire Trento e Trieste alla madre patria e quindi ricomporre definitivamente la nazionalità. Ma si vede ben presto che la guerra è in realtà una guerra senza senso, le battaglie dell'Isonzo vengono numerate dagli austriaci, ce ne sono più di dieci e il fatto che siano sempre sull'Isonzo dà l'idea che tutto sommato non si fanno dei grandi cambiamenti e non si fanno delle grandi avanzate. Questo percorso tortuoso di guerre senza un perché, di finalità non chiare. Cosa vuol dire vincere una battaglia nella prima guerra mondiale? Conquistare cento metri? Un chilometro? Dieci chilometri? Conquistare un comando nemico? Chi misura chi vince e chi perde? Quando l'elemento fondamentale è la distruzione di capitale e materiale umano e la sopravvivenza delle nazioni industriali. Di conseguenza la prima guerra mondiale causa un trauma psicologico profondissimo in chi la combatte e nel fronte interno. Esso esploderà clamorosamente nel 1917 col collasso del sistema militare praticamente in tutti gli eserciti, da quello russo a quello francese a quello italiano, quando i soldati che sanno di essere condannati a un'esistenza precaria e forse limitata nel tempo, decidono a un certo punto di ribellarsi, di non combattere più. Lo fanno, ogni gruppo lo fa naturalmente a modo suo e questo dà origine a che cosa? Al tentativo degli alti comandi e delle nazionalità di rimotivare la truppa dando loro una prospettiva. E qual è questa prospettiva che deve in qualche modo avverarsi a conflitto compiuto? Quello per esempio di dare la terra ai contadini, questa è una prospettiva, oppure quella di dare il voto, oppure quella di costruire una società più giusta. Ecco quindi che tanti degli elementi che noi vedremo costituire una delle basi della cultura politica nel teatro devastato dell'Europa di Versailles in realtà gemmano in questi mesi tragici, quando si tratta di promettere qualcosa perché i soldati facciano l'ultimo sforzo per riuscire a vincere. Il collasso dell'Austro-Ungheria, prima ancora della Germania, la Germania non viene battuta sul campo, quello che viene in qualche modo a essere eliso è il potenziale industriale, che non riesce a tenere il campo e la capacità di reazione che hanno gli Stati Uniti d'America, che entrano appunto nel 17 pienamente nel lagone della guerra mondiale. Questo 1918 chiude quindi una stagione definitivamente e ne apre un'altra, la stagione delle promesse di un avvenire migliore, di un ordine ricostituito, di un'Europa che abbia abolito la guerra, di un mondo come pensa il Presidente Wilson che sia legato da un lato a un vincolo di solidarietà definitivo, che riesca a dare prospettive di negoziazione piuttosto che di conflitto e che restituisca la nazionalità a tutti i popoli che la chiedono. Questo è il bito della Grande Guerra che nasce dentro la Grande Guerra.